Salve a tutti amici di Youtube e oggi vi farò vedere il mio deck di Yuma da Torneo Ok, iniziamo Mago Gaga, un altro Mago Gaga 3 Goblinburg poi 2 Kajetokage ZV Lama Fulmine Cesare Gagaga Cavaliere Tasuke Arciera Chacha Gru Gru Bambino Gagaga Golem Go 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 Guerriero di Riserva Piccola Fata Go 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 Gigas Gardena Gagaga ZV Unicorno Lancia Cavaliere Zubaba Ragazza Gagaga Cavaliere Gambara Cavaliere Lucente ZV Portatore di Tornado Adesso passiamo alle Magie Tempesta Potente per 2 Gagaga Vendetta 2 Potenziamento del Lego Buco Nero Buco Nero Lasciora Doppia 20 di Bufera Alzarango Magico Forza di Brian Barian Limitata Controllo degli Attacchi Slot dei Mostri Gagaga Vento Gagaga Vento Unita Xyz Adesso passiamo alle Trappole Scudo Prosciugante Cavaliere Copia Attacco Impenetrabile Cilindro Magico Cilindro Magico Forza Rifless E Bello Accorato Adesso passiamo alle Xyz Beh devo averne Ancora gli altri Vabbè comunque Elfo Brillante Numero C39 Raggiutopia V Numero C39 Raggiutopia Numero 39 Utopia Un altro numero 39 Utopia Numero 17 Drago Leviatano Numero 10 Illumino Cavaliere Grenosauro Grenosauro Gemmaestra Molla E Nisla Valval Ok Salva a tutti Commentate e iscrivetevi